Comincio a preoccuparmi seriamente perché cavolo non posso non farcela sono adesso a 2.96 Adesso andremo a 2.94 Una top 25 mi porta a 2.97 Una top 15 a 2.99 Eh ragazzi bisogna provarci raga Andiamo ragazzi andiamo La pista di Borgo Allegro Io voglio provare ancora qua raga Via 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 nice nice Bene così Sbrigati Andiamo a prendere il metà c'è gente Ho visto che ha distrutto qualcosa fermi tutti C'è gente qua Grazie di cuore Roberto Ha preso la palla 24.49 Vattene Vattene Molto cattivo qua lo xuder ragazzi Che dice no Questo è il posto il mio È il mio posto Ho paura raga Ho paura al tizio Ma non c'è più dai Mi serve questo metallo raga È un pump È un tacchino Dammi il tacchino Nice Stiamo sempre molto indietro Non c'è fretta Uh Siamo a bordo safe Passiamo da qua In silenzio In silenzio Senza fretta Senza fretta Senza fretta Inventario sistemato Vorrei andare a scalini No 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 Non riesco a fare un tacchino Tanto il pump ce l'hai 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 Non me ne frega proprio niente Giusto qualcosa di legna qua Siamo dentro in 51 ragazzi Siamo dentro in 51 Ho perso 4 punti raga Purtroppo si Purtroppo si Prendiamo subito il pump Andiamo contro un tipo che aveva un ACOG Gli spariamo un colpo Gli facciamo 16 Gli ne spariamo un altro Gli facciamo 76 Mi prendi in one shot un tipo da dietro E si fa anche l'altro Vedi 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 Easy Easy Non so se mi abbia visto Non credo Sinceramente non credo mi abbia visto Sono comunque pronto A una super fuga Io mi allargo nuovamente Cerco di riavvicinarmi alla safe Questa pietra la voglio però Il resto Non me ne frega Niente Siamo anche senza scudo Ricordiamoci anche questo Ricordiamoci che siamo Scoperti Prima dagli un'occhiata Sto scalini A me sembra pulito scalini raga Non è in realtà pulito Perché è passata gente Tengo il tac raga Solo perché è più veloce a sparare Magari in endgame Misso il primo colpo Ma magari lo prendo col secondo Siamo in 40 raga Una top 25 È assolutamente Indispensabile ragazzi Usciamo da qua Senza far casino Senza far casino Senza far casino Pulita così Siamo messi anche Relativamente messi bene con Uno con la palletta Siamo in 38 Qua Un'ottima Bella bella questa posizione Nice Siamo in 37 Ne mancano 12 Per la top 25 Ragazzi Dobbiamo farcela Bella questa posizione raga Super camping Super camping Ma certo che faccio le kill Magari in endgame Purtroppo il torneo Lo gioco così raga Ok Ok A parte quelli che hanno le pallette Non dovrebbe esserci nessuno qua E noi rimaniamo comunque Sul bordo del vulcano Proprio puliti 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 Possiamo addirittura Zardare un controllo qua Siamo in 35 Ne mancano 10 ragazzi Ne mancano 10 Ok vedi che ci sono quelli Con le pallette Noi ce ne sbattiamo le pallette Ci mettiamo tipo qua Eccolo là in alto Eccolo là in alto Che fa? Che mi fa? Mi pia nel cespuglio Con la palla Assurdo Vorrei capire Se mi vuole puntare O se si fa Questo non è con la palletta Però Sono i più pericolosi Quelli senza palletta Dove sta andando? Cos'è che fa questo? Sapete cosa vi dico? Facciamo il giro Dall'altra parte Attenzione Siamo molto scoperti qua No 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 Siamo troppo scoperti qua Bello mi piace A peso tipo stronzo Mi piace Ok Andiamo piano Ok Lasciamo che Le strutture vengano invase Dalla safe Eccovi Hello guys Welcome to my mind Cos'è che sta facendo questo? Siamo in 32 ancora raga Ne mancano 7 Cerchiamo di stare più larghi Perché abbiamo tutto il mare di là Anche se in realtà Non lo so È un pump blu questo? No Sì Che cacchio è? È un pump blu Eh stivista Il pump blu lo prendo raga Misso il primo colpo Ma magari lo prendo col secondo Ci siamo A parte i lag Siamo in 30 Dovrei buildare in metallo in safe Ci provo adesso che si scannano Dai non laggare Ti prego Non laggare Questa fatta La cara sull'albero quello Bella questa posizione Se non mi sente Non mi vede nessuno Buildo qua Che cazzo Ho buildato Ho le mani che mi muovono da sole raga C'è bello questo build Un po' infame Un po' infame ma bello ragazzi Lasciate perdere il build raga Che c'ho le mani No no lasciate perdere raga Ho le mani fredde Non riesco a buildare Ho le mani fredde Ho le mani fredde raga Ho le mani fredde Ho appena avuto i piatti Non guardate il build Non guardate il build Ho fatto delle piramidi in fianco Per depistare Possibile gente Che potrebbe spararmi Devono ancora creparne due raga Devono ancora creparne due Uno Uno Siamo in 26 Dai uno deve crepare Uno deve crepare Ma che sfiga Proprio dall'altra parte Va bene Usciamo Pronti poi a demolire qua sotto E a modificare qua sopra No potremmo già modificare il doppio di qua Non so se ci passa però Facciamo due modifiche Usciamo così Uno Raga uno che ne crepa Siamo in 26 Mi serve il punto Mi serve il punto Ma mi servirebbe molto di più La top 15 ragazzi Piano Siamo ancora in 26 raga Vicino alle strutture Sempre 26 Non riesco a giocare così Mi sta laggando a schifo raga E prende la top 25 Nice Attaccati a Badrime proprio sugli alberi Easy 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 I like this place I like this place Siamo in 25 ancora Nice place Nice place to be Nice place to be Attenzione 24 ragazzi 24 Attenzione Attenzione 22 Oh raga una top 15 Ci porta a 299 Si va Ho fatto un po' di casino Ok saliamo Sono anche dove cazzo Sono attaccato Ok nice 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 Sezzano la gente Scendi 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 No no Ok Mai prendere i geyser Con la palla Sei rovinato Ma questo cazzo di geyser Deve proprio stare qua Ok Attenzione Perfetto Bella zio Grazie Andiamo Con le palle Con le palle Con le palle Siamo in 18 Siamo in 18 Ho preso un tipo Grande gli ho sparato Un altro tipo Nice Siamo in 16 Siamo in 16 Calmati 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 Che siamo in 16 Siamo in 16 Grazie per la donation Non posso vedere chi sei Ma grazie Vai Spider-Man E prende la top 15 Va 2,99 C***a raga Se faccio una kill Attenzione Non riesco a capire nulla Raga Sta laggando tutto Ok Adesso finisco I maz Adesso finisco I maz Siamo in 13 E li va a prendere così E li va a prendere così Con le klinger E andiamo a farli Questi 300 E andiamo a farli Pro Con le klinger Cattivo così No 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 Scusa Grande Pro Grande Andiamo a farli Com'è la storia zio Per la top 5 Va a 302 punti Attenzione La cattiveria è veramente A livelli esagerati Assurdi Muore gente dalla safe E muore così E riesce A chiudere Con 302 punti Grande E li va a fare qua ragazzi E li va a fare qua Pro Pro Grande Lega Lega Campioni Pro E lo xshooter Ce la fa ragazzi A dimostrare Che anche chi non è forte Può farcela Ad arrivare a Lega Campioni E' Cosa succede adesso? Lega Campioni I giocatori Della Lega Campioni Si affronteranno Per un invito Alle finali Della Fortnite World Cup A New York Alla fine Lega 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 Grazie a tutti